Ci troviamo a Mantova, quello che vedete è Castel San Giorgio, la residenza di quella che era la famiglia i Marchesi di Mantova, cioè i Gonzaga. Tra il 1465 e il 1474 Andrea Mantegna, che era nel frattempo già diventato il pittore ufficiale di corte con un pagamento, con un contratto mensile di uno stipendio, un luogo dove stare, delle forniture di riso e così via, Mantegna decora quella che oggi viene chiamata la Camera Picta, perché è completamente dipinta, come potete vedere, ma anche Camera degli Sposi. Vorrei subito togliervi di mezzo un dubbio, Camera degli Sposi viene chiamata in questo modo perché nella parete nord, quella che vedete che vi sto indicando adesso, compaiono gli sposi, appunto Ludovico Gonzaga e la moglie Barbara di Brandeburgo insieme alla famiglia, ma non era una Camera da Letto, era invece una stanza di rappresentanza, era il luogo dove venivano ricevuti personaggi che arrivavano come ambasciatori da altre signorie o insomma personaggi illustri che dovevano portare notizie e visitare ufficialmente la corte di Mantova, ecco questo era il luogo di rappresentanza. Motivo per cui Mantegna viene incaricato di decorare questa stanza cercando di mettere al meglio in vista le caratteristiche della casata dei Gonzaga. Chi entrava in questa stanza doveva sentirsi in qualche modo parte di una vera e propria vita domestica, vedete che ogni parete dipinta come se fosse una sorta di spaccato, come se le pareti stesse venissero cancellate dalla pittura e potessero essere aperte, una sorta di illusionismo, quello che poi diventerà tipo un pleuil, si dipinge la parete quasi per sfondare lo spazio prospetticamente e aprirlo verso l'esterno. L'idea era quella di accogliere il visitatore, un visitatore ufficiale, e farlo partecipe della vita di corte, ma in contemporanea, al contempo, l'obiettivo di Ludovico Gonzaga che era il committente di Mantegna era quello di mostrare appunto tutti i motivi di orgoglio della famiglia. Partiamo dal fatto che, come sappiamo, gli artisti di corte del Quattrocento avevano l'incarico di aglietare le serate, di, va bene, sì essere pittori, ma spesso ricoprivano tanti altri ruoli, l'abbiamo visto, lo vedremo con Leonardo da Vinci, da musico a inventore di macchinari scenici per delle feste occasionali. Nel caso di Mantua, dei Gonzaga, avere un pittore di corte che raccontasse il lustro della famiglia, che desse lustro alla famiglia, era ancora più importante perché i Gonzaga non avevano il potere, non ricoprivano il potere da molto tempo, era appena un secolo che governavano a Mantua. Prima erano dei semplici contadini che gestivano delle terre, poi addirittura il loro cognome proverrebbe da un termine dispregiativo usato nella pianura lombarda Gonzaga da Gonzo, che verrebbe tradotto come stupido, imbranato, babbeo, insomma, per farvi capire che, insomma, anche l'origine stessa del nome aveva bisogno di essere lucidata per avere un pochettino di, no, per un'immagine verso l'esterno molto più significativa, molto più pregna, un po' come se fosse una sorta di direttore marketing e agente, no, creativo, pubblicitario, mantegna l'incarico di mostrare il lato positivo di questa famiglia. Tenete presente, appunto, che dopo aver preso il potere questa famiglia un secolo prima, strappandola ai buon accolsi, soltanto nel 1433 Ludovico Gonzaga, combinando un matrimonio con Barbara di Brandeburgo, che era nipote dell'imperatore germanico, quindi di stirpe di sangue blu, per davvero lui era un Gonzaga, ecco, soltanto nel 1333 lui si sposa con Barbara e compra il titolo di Marchese per la modica cifra di 12.000 fiorini d'oro. Questo vuol dire che, appunto, un titolo comprato e a maggior ragione c'era bisogno di dimostrare all'esterno, per gli abitanti cittadini della, no, della, della signoria che lui gestiva, ma anche verso l'esterno, occorreva dimostrare l'importanza, l'imponenza, no, la grandezza di questa famiglia, sia a livello militare, ma anche a livello politico e culturale. Ed ecco intervenire la figura dell'artista di corte. Allora, parliamo di questa stanza. Come vedete ha una struttura che è molto semplice, è una struttura quasi quadrata, dovrebbero essere circa 8 metri di lunghezza per 3 di altezza le pareti, per darvi l'idea. E vorrei farvi vedere che tutto quello che noi vediamo in questa stanza è dipinto, ad eccezione delle porte che erano presenti, con le loro cornici intorno, di questa finestra che Mantegna farà aprire appositamente per poter usare, sfruttare la luce naturale che entra e far proiettare le ombre sui dipinti come se fossi trattasse proprio di luce naturale, e di questo camino che esisteva davvero nella stanza e sul quale vedete che il nostro Mantegna fa appoggiare i piedi dei personaggi, utilizzando un punto di vista per la prospettiva che coincide esattamente con l'occhio dello spettatore, come se noi fossimo esattamente nella stanza e vedessimo esattamente quello che sta accadendo intorno a noi. Vi dicevo, tutto è dipinto, ad eccezione di queste mensole che sostengono queste lunette, tutto il resto, tutta l'architettura che voi vedete sul soffitto, tutta l'architettura che scandisce gli spazi, il basamento e queste lesene dipinte, tutto è assolutamente un frutto di un illusionismo pittorico. Abbiamo già visto che Mantegna si divertiva con l'illusionismo, l'abbiamo visto nella palla di San Zeno di Verona, abbiamo visto che lui giocava con l'illusione, voleva illudere l'occhio di chi guarda, di cui guardava la sua opera, ingannando, facendo capire, facendo perdere i riferimenti, uno non guarda e non capisce più che cosa è vero, che cosa è dipinto, quindi la pittura che simula lo spazio reale a tal punto da passare quasi inosservata. Noi vediamo gli spazi dipinti, ci sembra di vederli per davvero. La stessa scelta dei punti di vista prospettici vedremo che è assolutamente in questa direzione, cioè noi vediamo, spesso anche i discorsi prospettici, ve lo anticipo già qui, questo incredibile oculo, lo vediamo da sotto in su esattamente come lo vedremo se ci fosse per davvero questa apertura circolare sul soffitto. Ma per farvi capire ancora meglio vorrei mostrarvi, vedete che ci sono queste, io vi sto mostrando in questo momento una sorta di barra di metallo delle tende. Allora Mantegna dipinge queste due pareti, quella a nord e quella a ovest, ma lascia invece coperte le altre due pareti, quelle che sono dall'altra parte. Coperte cosa intendo? Intendo dire che lui dipinge queste finte barre delle tende, sulle quali dipinge delle tende, qui vedete che sono tende appunto che ancora sono tirate, qui vedete che invece scosta le tende, il tendaggio, quindi sono tirate, vedete anche qui, no? Tirate. Come a mostrarci? Quasi a uno, un sipario che viene aperto, quindi per farci, ci svela la vita di corte per farci entrare appunto all'interno di questa, appunto, della vita di corte di Mantua. Vi mostrerei ancora subito, già che ci siamo, un elemento importante. Guardate questo basamento decorato con dei finti cerchi, no? Di marmo colorato, ovviamente è dipinto, non è il vero marmo, ma mi serve a mostrarvi questo elemento, questo basamento, perché guardate, lo ritroviamo qui dietro alle spalle della famiglia, no? Del gruppo di famiglia della corte, quindi quasi a dirci che noi che siamo nella stanza e abbiamo questo basamento a nostra altezza, siamo idealmente nello stesso spazio che viene proseguito dietro la famiglia stessa. Gli stessi tondi li ritroveremo anche nella palaustra dell'oculo di cui vi parlerò dopo. Ok, a questo punto vi mostro la parete ovest. Di nuovo il basamento, questa è la porta vera, vedete che la parete ovest è suddivisa da queste tre lesene dipinte, sulla quale compare una sorta di scherzo. Vi sto cerchiando questa parte, vedete che ci sono queste lesene dipinte con delle grottesche, dei motivi decorativi che verranno, diventeranno poi molto di moda all'epoca di Raffaello e di Raffaello e poi queste decorazioni all'antica ritrovate in alcuni palazzi romani che rinvenivano appunto spesso sotterranei. Ecco, in questa decorazione grottesca e quindi all'antica il nostro Andrea Mantegna si autoritrae, inserisce il suo autoritratto, ecco ve lo rifaccio vedere, è qui, è proprio una sorta di scherzo, di firma e quasi a dirci no, a metterci il suo marchio di fabbrica. Ecco è lui che è l'artefice di tutto questo. In questa parete mi preme mostrarvi solo alcune cose, ci sono vite di corte, il duca Ludovico Gonzaga, lo vediamo di profilo, non ci stupisce un tipo di rappresentazione, di ritrattistica di questo tipo, a ricordo delle monete romane, come si faceva, ricordate abbiamo visto il celebre doppio ritratto di Piero della Francesca, in questo senso con Federico II da Montefeltro e la moglie Battista Sforza che si affrontavano di profilo, uno guardava in direzione dell'altro, quindi un riferimento all'antico sicuramente non guastava. In questo caso Ludovico sta incontrando il figlio Francesco che nel frattempo è diventato un cardinale. Nelle altre scene vedete che ci sono cavalli completamente abbigliati, agghindati e cani da caccia. Ludovico amava la vita di corte, la bella vita ed era un grande amante dei cavalli e dei cani, amava la caccia e quindi i cavalli e i cani sono inseriti proprio nelle scene come se fossero parte stesso della famiglia o animali di cui andare fieri. Vi mostrerei a questo punto un dettaglio invece del fondo dell'incontro. Vedete appunto scena di famiglia e vari personaggi che si incontrano un po' bloccati in questo caso, nel loro essere raffigurati come in un istante sospeso, ma vi mostrerei il fondo. Allora in tutte le opere di Mantegna, qui intanto vedete il tendaggio scostato, in tutte le opere di Mantegna quando compare un paesaggio alle spalle dipinto potremo trovare un paesaggio che è decorato con una serie di elementi architettonici, di edifici architettonici tratti dall'antichità. In questa opera si potrebbero riconoscere il Colosseo, si potrebbe riconoscere Castel Sant'Angelo, si potrebbe riconoscere la piramide di Caio Cestio. Ovviamente non erano sul fondo delle colline che stavano intorno a Mantua, era evidentemente un riferimento colto perché Mantegna sappiamo che si è formato nella bottega dello Squarcione dove c'era una grande collezione d'antichità che lui aveva studiato, si è bassorilievi e le opere che Donatello aveva realizzato quando aveva lavorato, soggiornato a Padova e appunto Padova che era una città culturalmente, come città universitaria culturalmente molto attiva nello studio della storia, della storia antica in particolare, insomma aveva dato sicuramente un taglio importante all'amore per la classicità di Andrea Mantegna. C'è anche da dire che inserire degli elementi di romanità, come dire, di Roma alle spalle dell'incontro tra Ludovico e il figlio cardinale aveva forse a che fare con il figlio cardinale che metteva un piede a Roma, ecco diciamo, ma anche era un modo per appunto omaggiare l'antico in sé o quasi omaggiare invece al presente la casata dei Gonzaga che veniva quasi diciamo benedetta, se mi passate il termine che non è esattamente pagano, dalla classicità. Ma veniamo alla scena più importante. Sulla parete nord, vi dicevo prima, il tendaggio scossato da una parte, dall'altro lato invece la tenda è lasciata tirata in modo tale che possiamo fare merito, possiamo vedere tutti i personaggi della corte, i cortigiani che stanno discutendo, chiacchierando, vedete che c'è animazione, qualcuno sta salendo queste scale, vedete il piano di appoggio dicevamo era quello del camino, il camino che è vero ma si presta come piano d'appoggio per i personaggi dipinti. Su queste scalinate i personaggi stanno arrivando, qualcuno sta discutendo, chiacchierando, c'è fermento. Cosa sta succedendo? Qui vedete che c'è il gruppo di famiglia dei Gonzaga e c'è qualcosa che effettivamente sta succedendo. È arrivato un messaggero, si è tolto il cappello e ha portato una lettera a Ludovico Gonzaga, il quale è seduto sul suo trono con il suo cane prediletto, seduto sotto di lui come accade sempre, chi ha un cane sa che il cane è sempre nei dintorni. Ecco questo messaggero ha portato una lettera, adesso cercheremo di capire che cosa, quali sono le notizie che possono essere riportate in questa lettera. Ma la cosa curiosa e interessante di questa scena di famiglia è che è molto naturale, vedete che addirittura c'è questa bellissima figlia dei due, l'unica figlia un po' bella, effettivamente ci dicono i biografi, che era Barbarina, che addirittura volta la testa in direzione di questi no cortigiani che si stanno muovendo, che stanno parlando perché evidentemente rumoreggiano, fanno confusione, quindi lei addirittura è distratta dalla scena di famiglia e guarda nella loro direzione illuminata, no, col volto molto bello illuminato e si gira dalla loro parte per capire cosa sta succedendo. Ingrandisco un po' così vedete meglio i colori, come vedete non sono molto belli ma è difficile trovare foto che siano abbastanza di qualità alta. Allora, come vedete il gruppo di famiglia ci mostra i vari personaggi, Barbara di Brandeburgo, stirbo imperiale, motivo di vanto per Ludovico, se ne era sposata ed era una donna di sangue blu, discendente della corte germanica per davvero. Ma alla corte di Mantua ci raccontano gli storici che i figli della coppia non fossero particolarmente sani, molti erano affetti da rachitismo, qualcuno soffriva anche di malaria perché i laghi intorno alla città di Mantua portavano alla presenza costante di zanzare. Fatto sta che la bambina che voi vedete qui in basso, Paola, ha in mano una mela ed è molto dolce il modo in cui, provo a ingrandirvela un po', vedete con una mela in mano quasi chiede il permesso alla madre di poterla mangiare, quindi davvero come se fosse non certamente una scena ufficiale ma una scena di famiglia. Eppure vediamo questi suoi occhi cerchiati, insomma una ragazza che si vede subito con la salute abbastanza cagionevole. Vi faccio notare un dettaglio che sembra molto buffo, curioso, guardate Barbara di Brandeburgo, non particolarmente bella come voi vedete, Mantegna profondamente realistico in questo, non idealizzava i personaggi, almeno non che noi sappiamo. Guardate questo copricapo che indossa, questa sorta di velo che indossa su questa acconciatura particolare, che le crea questo effetto orecchie lunghe che a me ricorda l'effetto orecchie lunghe del cane, ma si sa che i cani e i padroni spesso si assomigliano. Vi sarete accorti a questo punto che insieme al gruppo di famiglia ci sono altri personaggi, la bellissima barbarina di cui vi dicevo prima, con alle sue spalle questa donna invece dal volto più anziano, in parte in ombra, vedete che le ombre sono le stesse, quindi c'è una fonte di luce che è la stessa per tutti, è realistica, ma avrete notato la presenza di una nana. Allora, la nana di corte che a noi sembra, ma ci fa trasalirci, ma come c'è una nana di corte, cosa ci fa lì? La nana di corte era un altro motivo di vanto per la famiglia dei Gonzaga. Dovremmo aspettare la metà del Seicento per vedere, ha immortalato un'altra nana di corte in un'opera che sarà estremamente celebre, che è la Speninas di Velázquez. Ma cosa ci faceva quindi questa nana di corte? Allora, anche la nana di corte era stipendiata per stare alla corte di Ludovico e portare lustro, perché il suo essere diversa, la rarità, l'eccezione della natura, la portava a essere un personaggio che valeva la pena mostrare. Se ci pensate, la parola mostro, che noi usiamo in senso dispregiativo, in realtà ci parla di qualcosa che vale la pena di essere mostrato, un monstrum, qualcosa di così eccezionale che vale la pena essere mostrato. Ecco, la nostra nana di corte, alla stessa stregua dei componenti della famiglia, è presente nella scena, proprio nella stanza di rappresentanza, per mostrare la cultura, l'allargamento culturale, la ricchezza della famiglia stessa. E qui vi mostravo, nel frattempo, alle spalle dei personaggi, l'architettura dipinta, che è la stessa che noi abbiamo visto nel basamento della stanza. Ora, parliamo per un attimo di questa lettera. Ci sono due diverse ipotesi. Vi farei notare che l'altezza del messaggero è pressoché la stessa altezza di Ludovico seduto. Il messaggero è in piedi, Ludovico è seduto e sono alti uguali. Non credo si possa trattare di un tipo di pittura gerarchico, come nei tempi del Medioevo. Direi che o il messaggero era particolarmente basso, o comunque Ludovico fossero imponente, in ogni caso è lui il personaggio da evidenziare in questa strampalata corte. Ma in questa lettera ci sono due diverse ipotesi. La prima ipotesi vuole, secondo gli storici dell'arte, che fosse arrivata questa lettera con la quale gli sforza di Milano stavano chiedendo un aiuto militare, un'alleanza militare alla corte di Mantova e questo ovviamente avrebbe portato lustro alla corte perché allearsi militarmente con gli sforza era qualcosa di cui potersi vantare. L'altra ipotesi invece vuole che il messaggero portasse con questa lettera al du, al marchese, la notizia che il figlio Francesco era stato eletto cardinale. L'abbiamo visto nella parete ovest appunto il figlio cardinale che incontra il padre Ludovico. Perché? Allora questo sarebbe stato motivo di vanto e di orgoglio per la famiglia. Beh perché avere un figlio cardinale significava davvero mettere un piede importante a Roma, come dicevamo prima, in fondo tra i cardinali si sceglie il papa e quindi avere un figlio cardinale significava poter avere qualcosa da dire per scegliere il futuro papa o addirittura avere la possibilità di avere in famiglia un candidato papa. Quindi davvero un motivo di vanto non indifferente. Passerei a questo punto, ecco vi faccio questa una foto molto più bella, la vedete appunto il dettaglio della bambina, della bambina con la mela in mano, il volto di Barbara, la bellissima barbarina e la nana in questo caso con una foto che rende un po' meglio l'idea. Guardate anche le decorazioni degli abiti. Ah non vi ho detto che la tecnica che ha impiegato Mantegna è particolare perché non è una tecnica ad affresco ma è una sorta di olio su muro a secco. Si è mantenuta molto meglio rispetto al cenacolo di Leonardo perché il cenacolo di Leonardo è vero che Milano è una città d'acqua per cui c'erano canali al di sotto e non vi ho non vi ho detto forse che ve lo dirò quando non ve l'ho detto mi sono dimenticata che la parete del refettorio su cui aveva dipinto Leonardo confinava con le cucine piene di vapore quindi anche quello probabilmente il motivo di così importante deterioramento. A questo punto vi mostrerei appunto il soffitto questa è una vista con il grande angolo quindi ci mette insieme tutto il soffitto decorato dipinto vedete che sono presenti nel nel soffitto otto anelli otto cerchi contornati da queste corone no queste ghirlande in questo caso simulato con un basso rilievo simulato con delle sculture che dovrebbero sostenerli e sono sono dipinti i busti dei primi otto imperatori romani quindi quasi anche qui a volere portare l'uso alla famiglia dire quasi che c'è una continuità con gli imperatori romani. Vedete che tutto è simulato dalla pittura architettura e scultura vengono dipinte come farà tra qualche decennio Michelangelo Buonarroti nella Sistina. Vi faccio notare la presenza anche di queste fessone di questi ghirlande di fiori di frutta che compaiono un po' dappertutto che erano il marchio di fabbrica dicevamo della bottega del dello squarcione di Padova ma la parte più curiosa più interessante riguarda proprio questo oculo e voi vedete appunto che al centro di questa stanza non di grandissime dimensioni si apre appunto questo oculo noi sappiamo che oculo no dal latino occhio questa questa finestra tonda che si apre verso il cielo ci ricorda l'oculo del panteon. In questo caso noi lo vediamo come se ci fosse per davvero questa apertura verso il cielo e indirettamente la luce del cielo entra nella stanza a illuminare tutta la struttura ma voi vedete che sta succedendo qualcosa c'è animazione anche in questa parte di oculo che noi vediamo con questo scorcio prospettico incredibile fedelissimo una prospettiva fedelissima che inganna l'occhio ancora una volta vi mostravo prima vedete la presenza di questi tondi nella balaustra in questo caso non sono tondi col marmo dipinto ma sono tondi vuoti perché una balaustra che no è come se fosse appunto la ringhiera che deve proteggere chi si sta facciando dall'oculo stesso e voi vedete che ha delle parti bucate che questi tondi sono aperti bucati compaiono delle mani compaiono delle testoline di personaggi di questi putti vedete che stanno giocando e insomma c'è un gran fermento qua su cosa sta succedendo qua su allora da questo oculo si stanno affacciando alcuni personaggi alcuni putti vedete con le ali alcuni qualcuno ci diciamo noi lo vediamo da sotto in su compreso anche come dire le pudenda e compreso il fatto che siano appunto ci mostrino le pieghe del grasso tipico dei bambini ma non sono gli unici personaggi presenti vedete che c'è un pavone che era un altro motivo di vanto evidentemente un uccello che proveniva dall'oriente e che in questo caso non deve essere assolutamente confuso con l'iconografia cristiana è proprio un uccello di cui potessi vantare un uccello dalle piume bellissime ma voi vedete che ci sono anche delle ancelle una delle quali è di colore anche questo motivo di vanto perché significava che manto aveva contatti commerciali con l'oriente appunto e poteva addirittura contare alla sua corte personaggi che provenivano da così tanto lontano pensate la diversità culturale rispetto a oggi ma sta succedendo qualcosa se voi guardate questa ancella che noi vediamo al contrario ha la mano appoggiata a una a un'asta di legno su cui è appoggiato un grande vaso di legno che è un vaso una pianta di agrumi voi sapete che le piante di agrumi sono molto pesanti e la cosa strana che questa ancella sta tenendo la mano su questo bastone che sorregge in bilico questa pianta di agrumi mentre tutti gli altri stanno guardando di sotto ridacchiando ora io credo che potrebbe succedere qualcosa di molto pericoloso e molto divertente da un momento all'altro immaginatevi di essere al centro di questa stanza non nei giorni nostri come visitatori di museo ma immaginatevi di essere no gli ambasciatori del ducato di milano siete a colloquio con il marchese di mantua alzate l'occhio al cielo e vedete questi personaggi che vi guardano ridacchiano e sembrano quasi minacciare se la se la donna toglie la mano probabilmente il bastone no scivola e probabilmente questo pesantissimo vaso di agrumi potrebbe cadere in testa ma la stessa cosa potrebbe accadere anche se questi putti vedete qualcuno ha un frutto in mano sembra quasi quasi non so volerlo lanciare e quest'altro punto che ha un bastoncino in mano sembra quasi voler minacciare no giocherellare con il pavone a questo punto se lo stesso va a stuzzicare il pavone il pavone si alza in volo io mi immagino no che possa colpire in ogni caso il vaso quindi le minacce provengono da più parti ma è divertentissimo anche vedere questi dialoghi tra questi personaggini no questo gioco questo divertimento a cosa serve tutto questo evidentemente è una sorta di episodio ludico io lo chiamo proprio scherzo no che mantenga inserito nella stanza e che però fa anche piombare una luce incredibile all'interno della stanza stessa questa luce del cielo azzurrissimo con queste nuvole bianche ecco un tocco una firma davvero magistrale